Sì, sono qui in piazza Walter, c'è una persona incosciente e non respira. Cosa devo fare? Molto probabilmente questa persona è in arresto cardiaco. In piazza Walter c'è un defibrillatore, c'è qualcuno lì che può andarlo a prendere. Lei può andare a prendermi il defibrillatore? Liberi il torace, ovvero tolga la maglietta che la persona ha. Poi con tutte e due le mani, con il palmo della mano, al centro del torace, deve fare delle compressioni toraciche. Io le do il ritmo, conto con lei. Deve premere circa 5-6 centimetri. Ok. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ho una persona che mi aiuta. Perfetto, accendete il defibrillatore e seguite esattamente quello che vi dice il defibrillatore. Applicare gli elettrodi. E continuate a fare le compressioni sempre al ritmo che vi ho detto prima. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Analisi in corso. Nessuno lo tocca. Effettuare la scarica adesso. Scarica erogata. Iniziare la rianimazione cardiopulmonare.